Giocare in nazionale è emozione allo stato puro. Simone Anzani lo ripete spesso. Quella maglia gli dà i brividi. Il 23enne centrale Comasco all'Azzurro ci è arrivato da lontano. Partito dalle giovanili della gloriosa Sisley Treviso, è passato per Loreto, Sora e infine Verona, la città dove si è consacrato. Il suo punto di forza è senz'altro il muro. Nell'ultima regular season è stato il terzo giocatore più prolifico in questo fondamentale, alle spalle di Van der Forde e Podrashanin, dimostrando di saper sfruttare al meglio i suoi 203 centimetri. In Azzurro ha vinto i giochi del Mediterraneo nel 2013. Un anno dopo è arrivato l'esordio nella World League che ha visto l'Italia chiudere sul podio e Simone mettersi al collo la medaglia di bronzo. Si autodefinisce simpatico, talvolta goliardico. Confessa di non poter rinunciare alla Nutella. Il suo idolo sportivo è Valentino Rossi. Il suo sogno invece è vincere le Olimpiadi. Alla World Cup alzerà le braccia al cielo per murare chi quel sogno proverà a portarglielo via.